Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, Supporto un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Ma sei tu sopra? Sopra, 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 si. Ti darebbe un pompa. Molinchiare. Munizioni, munizioni. Ah, tu qua stai. Da, ma che cazzo. Io, qua non mi sei due. Ma la C c'è un po' di gente. Voglio un cazzo di panco, però. Ma ora da me? Oh, Martì, ne abbiamo uno dietro. Aha. Non so dove è andato. Ma che fa? È fermo. Oh, oh, oh. Ehi, guarda, è salito quello, Martì. Ma che mi fa? Scusate anche io. Stanno sotto, quello là, benzinaio là. Benzinaio, ah, in colonia, a tutto dove sta? Ok. Eh, me sta. Oh, sta qua da me? What? What? Ok, mi spara dal tagos. Non ti posso dare una mano. Pure a me mi spara dal tagos. Eh, infatti, me la vado a prendere, ma l'ho rotta le f*****e. Brother! Oh, guarda, te! Rip. Grazie al pump blu. Arcatroia. Eh, c'è gente dentro a nord. Io risparo, giusto che farlo fermato. Oh, gli sparo il cazzo. Io ho fatto edge o da quello dietro? Quello che guida è one hit, Martì, quella più a sinistra di tutti. Madonna, io ho fatto un edge o da un bianco. Eh, ma... Oh, ma non moriva. Vabbè, è ancora lì, quello? Sì, blu. La serata? Tipo blu. C'è un altro team che arriva, un altro team arriva, eh. Un altro testo. Sempre a loro, suona. Cazzo, la serato? Cazzo, che si scurta. Quello che ti sale, tre blu? Sottima. Sottima. C'è, è un cazzo tipo un panor male. Ti do un pump blu, se vuoi. L'ho appena buttato. Guarda che bello. Io mi fermo qua sopra e gli sparo, così mi vengono a pushare. Dubito che ti pushano. Eccoli, cazzatissimi, Martì. C'è uno di vicende esti. Ascolta, quelli di esti sono in due, che mi ripuscio io adesso, va bene? Mi ha tappato uno. Ma perché mi sparo un bevolo sotto di te, Martì? Ma che cazzo significa? Beh, qua è la dove ho tappato i due. Eh, lo so. E c'è ancora di compare qua sopra. Lo so. Oltre un lato. Se lo fai cadere è morto, eh. Se lo fai cadere è morto. No, non posso. Però l'ho zippato. Io ho trollato. Pensavo di cascare sulla casa, invece... Sì. Ah, quindi non hai un atto acceso lui? No, no. Mi sono posato tipo da quella scala, pensavo di cadere su questa scala, invece... No. Comunque c'è quella mentre li pushavi, si è affacciato a me che sparagni, vabbè. Lo so. Ma tu che tirai? Zero. Ok, ti ho so, scudine, se per sabà ci sono i medici che fa. Vieni. Mai un po' di materiali, eh? C'è un 92, 179. Vai. Oh, gente? Sì. Vabbè, questo qua, come minimo, non me lo tocchi perché è morto. Che te sfondo! Venga. Solo no, scu, poi mi fido. Dov'è, dov'è? Ah, il lupo. Il biondino lo puoi pure spare tu. Oh, niente, scherzà. Vuoi un grappa? La notte usi? No, no. Guarda qui. Ma dove mi ha sparato? Io non so niente, a parte gli drop. Ho avuto una scala. Ah, ah, volano a est. Guardalo, guardalo, guardalo. Non lo guardo più, ma... Non lo guardo più, ma... 214 neri. Attento perché sono pure italiani, quindi la cosa mi possiamo già raggiungere. Te lo dico. Ah, ero italiano? Sì, te lo dico, quindi mi possiamo già raggiungere. Ah, ok. Ma hai i cure? Mini shield e campfire. Tu hai i cura? C'è solo se tre bende. Ma io non ho capito da dove, sinceramente. Eh. 2410 neri, guarda, mi fai una rampa qua sotto? Uscano. Mark, mi levo dal cazzo. Vattene. Ma mi viene da doppio sniper, che ti vuoi dire? Ah, sono sopra d'asti, eh. I container? Sopra d'asti, eh, sì, sì, sì. Non so come si chiamano quei colpi. Container, container. Era una comando, una comando. Mi ha inculato le mie bende. Vogliamo pusharlo? Sì, sì, io lo push. Andiamo. Non so dove è andato. Eh, qua dentro. Qua? È blu, eh. Sali l'amico? No. Non mi è bende da sto dentro. Quella a destra, eh. Non va che qua sotto di me, io, eh? Eh, è quello, eh. White? Era questo? Eh. Perché ne sai che era l'iano? Eh, stai, si chiama Angelo, porco due. Ma vabbè. Vieni che si chiama Angelo, ad Amsterdam? Non so, se c'ha la mamma ucraina. Non so, se stai dicendo qualcos'altro. No, perché tu dici quando c'ha la mamma? Devi sempre dire qualcosa di insano. Infatti stanno pure rispettando. Sono italiani, te l'ho detto. Non trovo l'angolo per cerchinarlo. Se faccia solo il cappuccetto rosso. Senti, io vado a cazzo dura. Ci stai? Affancula. Vabbè, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sono spostati, eh? Eh, saranno dentro questi. No, non entrare, per favore. Perché no? Guarda, non lo faccio. Archi. Non entrare, per favore. Shit. Oh, my God. Quanto tra ieri davano sti tipi? Ma poi avevano messo... Tu non ci hai fatto caso, forse? Ma quando è che stavano eseggiando tutto quanto? Hanno di stupire le loro stesse trappole. Ma ce n'erano tipo quattro piattate, te lo dico. Nei muri. C'erano quattro trappole piazzate da loro. Erano di sotto loro con gli stessi razzi. Cioè, per dirti. Beh, sono bravo. Neanche io non ho toccato. Quanto ce n'hai? Dici ho. Ancora due. E li devo lasciare. Ma che vedevi lasciare? Senti. Senti, eh. Eccoli, li vedi? Guarda che se non vuoi non te la like. Sono tre. Vogliamo prendere il pad? Questi sembrano che buildano, però. Non so perché questo feeling. Eh, questi... No, no. Questi, questi... Devi cercare a valire il rosso. Oh! Oh, ricordati che ne è noccato uno e ce ne sono altri due. Non mi ero un perché. Io buscio questo qua. No, ok. Puscio loro. E' bianco, e' bianco, e' bianco. Io ho fatto due 44. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ce la fai a restarmi? Ce la fai? Madonna, sei lì? Vieni, lo sei lì? Adesso mi raselli? Marti, ma che cazzo ti resti? Ce la fai, ce la fai? Se mi resti ti do... Veleni. Quanto dai? 3.000, vai, fidati. Te do 3.000. Resta me la fai. No, sei lì. Che fai, è stato pure il mio, è stato... Hai cura, io sono la mini shield. Sì, vabbè, vaffanculo. Mi vai finire il mio knockado, per favore? Eh, non so lo trovarsi. E' gioco, è una redknife. Non so che è redknife, io ho fatto due 44 di air. Marti, io non la trovo. Ah, non so qua. Se ti dicessi che non l'ha arrestato, che è che l'ha arrestato? E stanno tutti lì dentro, Marti. Davvero? Eh, sì. Ho finito quello tuo, dai, muovi. Fatti pure quell'altro. No, però quella era mia! Che ne so? Dai, fatti quello, fatti quello. Muoviti, io che mi ammazzi. Ma che... Ma ne manca ancora qualcuno, eh? The fuck? Oh. Ma manca c'è... Oh! Oh, però quello è il mio. Vaffanculo, ce ne hai 21. No! No! Stupido! Ce ne ha parte. Dai, lo sei lì. Ma quante kille fa? Due kille, ma che schifo. Vaffanculo, ma... No! Grazie.